Sono Antonella, ho 33 anni, vengo da un nuovo infanzio di Bergamo, ascolto qualsiasi genere di musica, che sia italiano o straniera. Le mie cantanti preferite sono Martini e mia, partecipo a Versus perché mi piace tantissimo cantare. Io ho accettato la sfida e voi accettate la sfida? Poi? Ciao!